Apriamo questo 2013 nella frazione di Panza, il comune di Forio, con una serie di problematiche mai risolte. Ne parliamo con Mario D'Abbundo iniziando ovviamente la situazione stato civile. Sì, questo 2013 non è che da parte dell'amministrazione sia stato aperto in modo, diciamo, dal mio punto di vista molto favorevole e piacevole nei confronti dei cittadini della frazione, in quanto nonostante sia cambiato l'anno non è cambiata la musica, nel senso che praticamente si cerca sempre di prendere in giro i cittadini della frazione e visto che siamo quasi alla tornata elettorale logicamente si mettono in campo, si sfotano tutte le armi per cercare di carpire la buona fede del cittadino che non è addentro a tante cose e quindi poi loro vengono con una serie di bugie a carpire il voto di questi cittadini di Panza. E mi riferisco a questa ultima delibera di giunta che proprio stamattina ho trovato su internet Benedetto Brunetta che ha inventato perlomeno, possiamo accedere agli atti, altrimenti questi atti non saremmo mai potuti avere in possesso. In effetti questi l'altro giorno hanno fatto una delibera di giunta in cui praticamente, visto che hanno perso il finanziamento che la Regione aveva messo a disposizione, quindi i soldi gratuiti della Regione che ci dava per la messa a nuovo del campo sportivo, poi il sindaco successivamente disse che lui avrebbe fatto un project, cioè un financing costruendo e avrebbe realizzato quindi non a spese della collettività questo campo sportivo per non aggravare le spese sui cittadini e invece tutto questo non succede, succede quello che è successo con questa delibera, cioè nel senso che loro deliberano di impegnare 400.000 euro, 417.000 euro delle casse comunali. Ci sono? Ci sono? Sono in liquidità? No, e infatti il parere contabile del dottor Oran dice che praticamente loro possono fare la gara, però nella gara devono praticamente specificare che il pagamento sarà fatto dopo che è stato approvato il bilancio del 2013, cioè praticamente adesso ci sono le elezioni, Franco Regine può darsi che vada a casa, la sua amministrazione, quindi chi verrà dopo forse sarà accusato, visto che non ci sono i soldi, di non poter portare avanti questo impegno che loro hanno preso, dovuto al fatto che praticamente prima avevano perso i soldi, quindi loro perdono i fondi e chi verrà dopo magari si prenderà le critiche dei cittadini perché non potrà mantenere più l'impegno, perché questi soldi non ci sono. Mario, per essere chiari e per cercare di capire, loro fanno questo progetto, fanno il bando di gara, cioè potrebbero addirittura iniziare i lavori senza soldi e dire poi forse il 2013 ti pago o c'è l'intenzione di? No, non possono, infatti è specificato, la giustificazione definitiva potrà avvenire solo dopo l'approvazione del bilancio, quindi l'opera non potrà essere iniziata, cioè chi parteciperà alla gara già sa che praticamente vince la gara, però i lavori inizieranno dopo l'approvazione del bilancio, quindi secondo me questa è una nuova formula che si inventa, fuori io abbiamo fantasia e ci inventiamo anche di queste cose. Oltre al campo sportivo, una tematica di cui abbiamo parlato negli ultimi due o tre anni, non so quante volte sembrava la soluzione dietro l'angolo, ma la soluzione che è stata trovata è quella di fare una gara per poi, chissà forse, fare questo progetto, qual è la situazione delle altre problematiche? Come dicevi tu avendo questa intervista, lo Stato civile di Panza, lo Stato civile di Panza che praticamente è una conquista degli abitanti della frazione. Ricordiamo Mario, quanti abitanti ha la frazione di Panza? Ad oggi circa 7.000, perché Panza ha avuto un incremento urbanistico molto elevato, quindi oltre però a solo cittadini di Panza, diciamo originali di Panza, sono venuti tantissimi anche dalle altre parti dell'isola e da Napoli, quindi Panza è cresciuta moltissimo sia dal punto di vista della popolazione sia dal punto di vista urbanistico, però non è cresciuta dal punto di vista delle infrastrutture. Allora quando io parlo e faccio le battaglie per la frazione, non è perché voglio l'autonomia della frazione, io intendo più un'autonomia che poi è anche prevista dalla legge, nel senso che nel campo dell'autonomia finanziaria, la frazione di Panza e io chiedo, soprattutto che si vada in questo senso, cioè praticamente se nel territorio della frazione di Panza, che è ben definito da una delibera del 1889, mai sostituita, quindi secondo il mio punto di vista ancora efficace, anzi nel 1908 c'è stata addirittura una sentenza del Consiglio di Stato in cui si dice che praticamente i confini territoriali sanciti con quella delibera del 1889 sono intoccabili, quindi ad oggi questa delibera è ancora valida. Quindi se tutte le strutture che ricadono nel territorio della frazione Panza riescono a dare al Comune di Forio una somma X, io pretendo che questa somma X sia investita quasi interamente sul territorio, perché sono decenni che non viene investito un bel niente sul territorio, si fanno solo interventi di facciata come questo che si vuole fare del campo sportivo per prendere in giro la gente nel periodo elettorale, basta. Cioè praticamente Panza ha tante potenzialità che il Comune non dà la possibilità di esprimere, perché praticamente se noi pensiamo che tutte le strade sono tutto un colabrodo, tutte le strade non hanno una delimitazione, quindi praticamente siamo come nel Far West, io mi chiedo tutti i soldi che i giardini Poseidon, tutte le strutture sportive che ricadono nel territorio della frazione, dove vanno a finire? Ma io non dico che forse sono andati tutti a Forio, io non lo so, è un interrogativo, mi pongono una domanda, è un quesito perché secondo me non sono stati neanche spesi tutti nel capoluogo, perché non è che poi il capoluogo sia il fiore all'occhiello di quest'isola, quindi si vede sotto gli occhi di tutti. Quindi io non è che faccio la battaglia per l'autonomia, perché voglio scindere Panza da Forio, io dico e faccio la battaglia per i diritti della frazione. Lo Stato civile è stata una di queste conquiste insieme al cimitero e a cosa. Oggi il nostro Stato civile con l'annesso posto di polizia municipale è chiuso, praticamente i cittadini della frazione di Panza, che sempre facendomi a quella delibera, sancisce che tutti i cittadini che sono nel territorio della frazione di Panza devono avere accesso ai documenti nello Stato civile della frazione e praticamente lo smembramento di tutto quanto è stato conquistato dai nostri avi. Poi il nostro sindaco si lamenta nei confronti delle istituzioni superiori perché noi perdiamo i trasporti, perché perdiamo l'ospedale, perché perdiamo la valeduta. Ti chiedo, perché c'è quella serranda chiusa e quindi non c'è più lo Stato civile e la polizia municipale? Quali sono le scusanti dell'amministrazione comunale rispetto a questa scelta? Il locale a cui tu ti riferisci della serranda era un locale provvisorio che andava a sostituire il nostro Stato civile perché nello Stato civile era stato messo l'asilo per due anni, cosa che io sinceramente ero contrario perché praticamente dicevo che si doveva costruire un nuovo asilo e quindi quello stabile era stato costruito per lo Stato civile e doveva essere adibito al Stato civile. Quindi dovevano essere trovate altre soluzioni. E' stato chiuso, quindi non si paga più l'affitto per quel Stato civile, visto che l'asilo è stato trasferito in altro loco. Ma lo Stato civile, il principale, praticamente è chiuso perché il Sindaco dice che non ha l'impiegato. Fino a qualche ventina di giorni fa, effettivamente l'impiegato che stava a panza di solito era stato in malattia. Ma da qualche 10-20 giorni, io so che sta al Comune perché sono andato anche al Comune e prestava servizio per essere il Comune di Forio e praticamente adesso l'impiegato è ritornato. Anche se, voglio dire, se uno va in malattia non è che un altro non lo può sostituire, è una cosa normale, ma ammesso che non ci fosse, oggi è tornato ma fa servizio a Forio e non a panza. Il posto di polizia municipale è chiuso lo stesso. Praticamente ci sono di nuovo i rovi. Se andiamo a fare un filmato all'esterno dell'area vediamo una struttura abbandonata. Idem per l'assenza della polizia municipale. Esatto, sempre in quella delibera è previsto l'istituzione, poi ripresa nel 1933 addirittura con un'ordinanza del potestà che istituiva il posto di polizia municipale nella frazione di Panze e anche quello è stato abolito. Non si capisce perché i vigili sono sempre gli stessi, fino a sei mesi fa c'era la possibilità, doveva esserci e praticamente oggi non c'è più. E non si capisce perché. Perché io ho le idee ben chiare su questa faccenda. C'è in atto da parte, questo è sempre successo, è la storia. Se andiamo a vedere gli atti storici e i rapporti tra la frazione e il capoluogo ci sono sempre stati questi momenti di frizione. Praticamente oggi è di nuovo ritornato questo progetto latente e sotterraneo di smembramento di quelli che sono i diritti della frazione. Se noi mettiamo insieme anche che noi abbiamo fatto come cittadini della frazione una sottoscrizione per l'istituzione dell'istituto comprensivo per la frazione di Panze ma non perché vogliamo distaccarci, ripeto, da fuori. Perché secondo noi, con questo nuovo strumento che ci mette a disposizione la legge, la scuola di Panze poteva avere dei finanziamenti per fare un salto di qualità e invece al comune di fuori frazione, a questa amministrazione, non fa comodo che Panze possa andare avanti. Questa è la realtà. Ma ripeto, questi sono solo alcuni. Se andiamo a fondo ci sono tante altre manovre, ad esempio nello statuto comunale era previsto il referendum frazionale e nel nuovo statuto comunale è stato abolito. Non c'era il regolamento per fare il referendum. il segretario ha sulla sua scrivania lo statuto e praticamente il sindaco non lo porta in consiglio comunale. Quindi nel comune di fuori non si può fare un referendum a parte non si può fare più quello frazionale perché è stato tolto ma in generale non si può fare un referendum perché manca lo strumento statuto. Tante sono state le battaglie, abbiamo parlato dell'asilo, l'istituto comprensivo, l'auditorium che ormai è diventato solo un sogno. Anche su questa hanno fatto un'altra manovra. anche su questo auditorium loro hanno perso il finanziamento come già ho spiegato in un'altra intervista e adesso per buttare un po' di fumo negli occhi ai cittadini di Panza cosa hanno fatto l'altro giorno? Un altro imbroglio perché questa è la banda dell'imbroglio. Non c'è un atto legittimo. Io mi chiedo quando è che un magistrato si mette a spulciare un poco tutti gli atti quotidiani di questa amministrazione perché sicuramente si troveranno tantissime irregolarità. Praticamente nella zona dell'auditorium i soldi per l'auditorium sono stati persi quindi non ci sono. Quindi rimane là a pesa. Adesso si inventeranno qualche altra cosa come quella del campo sportivo. invece per prendere qualche voto di qualche amico dell'assessore Spadaro non faccio nome e cognome giusto per non creare equivoci così siamo chiari praticamente cosa hanno fatto? Hanno chiamato i proprietari dei terreni che 30 anni fa avevano perso un po' di terra siccome sono state costruite anche delle case intorno come tutti quanti ci siamo costruiti la casa praticamente hanno per dare il diritto di passaggio a questi proprietari che si sono costruiti la casa anche a quelli che hanno ancora il residuo del terreno praticamente con un atto sottoscritto che secondo me non è valido in quanto è un atto scritto davanti al sindaco e basta tra il sindaco e i proprietari cosa dicono? Dicono che praticamente i proprietari in cambio del diritto di passaggio attraverso la scuola praticamente non cedono un poco di terreno oltre a quello che hanno perso che non è tantissimo tra le altre cose perché il corpo centrale della scuola è stato costruito nella proprietà del parroco Leonardo D'Abbunto e che praticamente come ho detto in un'altra intervista poi ha il nipote che giace nel cimitero di Panza che non gli fanno costruire quindi la maggior parte del terreno è stato perduto da questa famiglia anche se poi siccome hanno fatto degli atti contro la pubblica amministrazione questi sono stati pagati mentre gli altri non sono stati pagati e praticamente cedono questo diritto di passaggio attraverso la scuola e siccome per un certo periodo di tempo anche la direttrice Conte aveva mandato una nota in cui si chiedeva di eliminare questo andirivieni all'interno della scuola con quest'atto praticamente il sindaco dice che nel frattempo che si realizza una strada che dovrebbe essere alternativa a quella attuale dà la chiave e quindi continua a far passare questi signori attraverso la scuola quindi la dottoressa Conte con la nota che intendeva praticamente eliminare questa cosa il sindaco dice vabbè nel frattempo che si farà mai si farà voi continuate a passare quindi praticamente i cittadini pensano di avere avuto qualcosa ma non hanno avuto niente ed l'atto è anche illegittimo dal mio punto di vista perché loro non hanno fatto mai una cessione del terreno davanti ad un notaio quindi e poi non hanno neanche scritto che rinunziano a qualsiasi altra azione successiva In conclusione che cosa ti aspetti in questo 2013 per il futuro di Panza? Io mi auguro per la frazione che questa amministrazione vada a casa vada a casa l'amministrazione e quelli che sono stati la sua espressione che sono Nicola Monti e Spataro perché in tutti questi anni qua il programma della lista del sindaco dalle ultime amministrazioni praticamente di quelle cose che avevano promesso non è stata fatta assolutamente niente parla di ampliamento degli edifici scolastici di Panza non è stata realizzata realizzazione di aree destinate a parcheggi non ne sono state fatte istituzioni di aree pedonali nei centri storici di Forie e Panza e siamo idem istituzioni del parco archeologico di Punta Chiarito con annesso museo hanno perso il finanziamento e siamo notiziario giornalistico gratuito sull'attività amministrativa ma forse farebbero meglio a comunicarlo alla magistratura quello che fa depuratore delocalizzazione più opportuna istituzione e zone di spiagge libera attrezzata l'hanno fatta alla chiaia dandola agli amici delle amici ampliamento delle strutture e delle attrezzature sportive e siamo alle solite farse realizzazione di una piscina coperta a Panza il sindaco bene affatto ha panzato di andare dal suo amico Gennaro Salvatore e chiedere se nel cassetto della della regione c'era qualche soldo per fare una piscina in Palestina forse qua volevo scrivere Palestina ha scritto Panza realizzazione di una pista di pattinaggio e l'anno scorso è stata l'ultima volta che ha nevicato a Ischi il 2 febbraio se non fate errate istituzione di una biblioteca multimediale con internet caffè parchi pubblici nuovi insediamenti tra Forio e Panza queste sono alcune delle promesse che ha fatto che hanno fatto e quindi hanno sostenuto i nostri amministratori quindi io penso che questo sia un fallimento totale per quanto riguarda il paese ma sia stato invece per questi signori un momento personale di arricchimento devo dirlo francamente perché io qui gli atti e lo voglio dire questa volta c'è in corso questa citazione del giudice per quanto riguarda la faccenda della Pegaso ed è stato attribuito dal giudice fallimentare la somma di 5 milioni e 500 mila euro ai nostri amministratori allora io dico che parte di questi soldi e qui ho gli atti praticamente sono andati anche nelle tasche di qualche familiare anche del nostro amministratore Antonio Spadaro e qui ci sono gli atti che dimostrano che praticamente 25 mila euro di questi soldi della Pegaso quindi di quei 5 milioni e 500 mila addebitati agli amministratori sono una goccia che vanno nelle tasche di qualche amministratore qui sono gli atti se i magistrati vogliono indagare sono a disposizione